E' un momento importante per la nostra città, come diceva Erasmiani prima dell'inaugurazione in una nazione, in un'Italia che chiude alla cultura, noi nella nostra città Senigalli apriamo, inauguriamo, inauguriamo la biblioteca ragazzi e speriamo in loro, speriamo nei nostri ragazzi e ci stiamo lavorando perché ci crediamo, non soltanto perché è un dovere amministrativo, da qui parte il futuro della nostra cultura, da questo spazio ragazzi parte il nostro futuro.